Ciao, come va? Abbastanza bene, insomma sono scappata dall'aula con un balzo felino per venire a parlare con voi. Perfetto, grazie mille, grazie mille. Vabbè, precisiamo che in questo momento c'erano discussioni, temporeggiamenti, non c'erano votazioni importanti, se no non ci saremmo mai permessi di staccare Fabiana, giusto Fabiana? Ah sì, si votava, guarda, in realtà si stanno votando gli ordini del giorno che insomma come ammesso all'epoca era il viceministro Fassina, non servono assolutamente a un tubo per cui in realtà non è un problema se perdo qualche votazione, non sono importanti, tranquilli. Perfetto, perfetto, quindi per i fanatici del controllo, se nel mese di giugno Fabiana ha una percentuale minore rispetto al solito, ecco, è giustificata. Bravo, fai molto bene a specificarlo. Sì, sì, ma perché io sono uno di quelli Fabiana, io te lo specifico perché io sono uno di quelli. No, 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 ma anche io sono uno di quelle, per quello che fai bene a dirlo. Senti Fabiana, allora Fabiana è in Commissione Affari Costituzionali, giusto? Esatto, sì. Ed è la Commissione che ha fatto quel lavoro semplice, semplice di prendere una votazione online fatta in, non mi ricordo più i passi, quanti sono stati? 8 votazioni. 8 votazioni e trasformarle in legge. Esatto. Raccontaci questa bellissima esperienza, molto facile e semplice e banale, suppongo. Allora, vediamo, un'esperienza molto molto bella perché per una volta siamo riusciti per la prima volta a costruire un'intera proposta di legge in rete. Abbiamo fatto tutte le consultazioni, chiaramente precedute da una fase di formazione perché è troppo facile chiedere votazioni senza spiegare alle persone che cosa comporti, scegliere un'opzione piuttosto che un'altra. Per cui c'è stato il professor Giannulli che ha spiegato la differenza per esempio tra proporzionale e maggioritario, ha parlato della questione delle preferenze e della dimensione delle circoscrizioni, poi con una fase di 8 votazioni si è arrivati per noi ad avere il materiale per riuscire a costruire insieme ai consulenti la proposta di legge della rete, quindi del Movimento 5 Stelle. E quindi abbiamo potuto depositare alla Camera quella che è effettivamente una proposta di legge che è del Movimento Tutto e non soltanto di noi portavoce, che prevede un proporzionale corretto, le circoscrizioni intermedie e le preferenze, preferenze che nessuna legge elettorale di quelle che abbiamo visto qui alla Camera aveva, salvo la nostra, per cui siamo molto entusiasti di questo risultato. Perfetto, siamo entusiasti anche noi, quindi alla fine quanto tempo ci avete messo più o meno? Quanti siete a lavorarci nella Commissione? Allora in Commissione siamo in Affari Costituzionali della Camera 8, 3 al Senato, quindi pochissime persone, i consulenti sono 2, quindi siamo una manciata di persone ad averci lavorato su, però il lavoro è venuto su bene, ci abbiamo messo se non sbaglio 3 mesi in tutto. Siamo arrivati addirittura prima della conclusione del percorso dell'Italicum, la famosa legge Renzi-Berlusconi, per cui ne siamo soddisfatti. Ma tu pensa che io credevo che la favola della lepre da tartaruga fosse una cazzata, invece è vera, alla fine è vera. Sì, è assolutamente vera, è una grande soddisfazione, anche perché inizialmente l'Italicum è arrivato sostanzialmente di notte, ci hanno passato le carte in tutta fretta in Commissione e noi per un momento abbiamo pensato, se qui c'è l'accordo rapidissimo, in tempo zero, questi si approvano alla legge elettorale e noi con i nostri tempi, con la rete, le consultazioni non riusciremo ad arrivare in tempo. E invece, no no, ce l'abbiamo fatta e come siamo arrivati anche molto, molto, molto in anticipo, visto che loro sono ancora impantanati al Senato. Quindi li abbiamo battuti in una cosa, perlomeno. Ho capito, senti Fabiana, le reazioni degli altri partiti che hanno avuto alla presentazione della nostra legge e soprattutto alla bomba mediatica dell'apertura a Renzi, dopo ne parliamo, però la reazione degli altri componenti della Commissione, come l'hanno giudicato? Una legge fatta bene? Ma per ora nessuno si è ancora sbilanciato, devo dire che ho preso dei giornali che ha espresso un ottimo parere Calderoglio, la cosa mi spaventa non poco, visto che è il padre del Porcellum, però, allora, con quelli con cui ne avevamo già parlato quando ci fu l'Italicum, perché avevamo iniziato a dettare più o meno quelle che secondo noi erano le linee, ma chiaramente non ancora condivise con la rete, che erano proporzionali, le preferenze anche con la preferenza negativa, il panasciage e c'erano dei pareri positivi. La loro unica ansia è la governabilità che loro intendono come un plebiscito pazzesco, per cui per i partiti quello che importa è avere almeno il 55% dei seggi, in quella maniera lì si approvano tutto da soli e non gliene frega più nulla dell'elettorato di quello che pensano le opposizioni. Quello che vorremmo noi invece è un tipo di governabilità, che abbiamo tentato di spiegargli dal basso, quindi una governabilità che si fa con i cittadini e con gli elettori su delle riforme condivise. Su questa parte non la capiscono in maniera così repentina, ma penso che sia proprio una deformazione, una tutela dello status quo. Diciamo che se l'avessero capita noi non stavamo facendo la rivoluzione, possiamo azzardarla questa. E soprattutto il paese non starebbe affondando se l'avessero già capito, quindi bisogna essere onesti, non si sarebbero tenuti il porcellum per tutti questi anni. Senti, uno dei membri della tua commissione e degli altri partiti che veramente ti devi sforzare a tutta l'anima gandiana che c'è dentro di te quando entri dentro quelle stanze? Ce n'è più d'uno, in realtà ce n'è più d'uno. Allora, la Gelmini, mamma mia. C'hai la Gelmini? Sì, ho la Gelmini, la Ravetto. La Ravetto, la Gelmini, perfetto, poi... Talvolta Brunetta. È che però non lo vedi, quando entri ti scappa. No, si fa notare, si fa notare. C'è la Russa che anche lui è decisamente leggero. Vabbè, nel PD c'è Rosato, il delegato d'aula che per noi è una tortura deambulante. Fiano, incredibile, Bressa, spaventoso. E Gitti, anche una personcina non da poco. Ce n'è di personaggi interessanti. Perfetto, ma quindi ascoltami, qual è il segreto per rimanere così ancora sorridenti dopo un anno e mezzo con queste persone? Il segreto del... Adesso che andiamo verso l'estate, sai che ci stanno i segreti per le diete? Un segreto da dare a tutte le persone che dicono Madonna, che lavoro di merda che faccio. Mamma mia, che colleghi di merda che faccio. Non ce la faccio più. Guardate, Fabiana Dadone, che lavora da un anno e mezzo con queste persone e ancora sorride. Spiegaci come si fa. Non lo sono anch'io, spirito di sopravvivenza. Secondo me poi in quel momento lì ti spunta. Visto che devo sopportare per forza di cose la Gelmini, poi uno per forza di cose deve sorridere. Perché abbiamo comunque la fortuna di lottare per le persone che sono fuori. Per cui ogni tanto con la filosofia che una risata le seppellerà mi tiro avanti da sola, mi do coraggio da sola. Perfetto. Senti, Fabiana, passiamo alle cose un po' dolenti. Tutti quanti i giornali, io direi anche qualcuno all'interno del Movimento 5 Stelle, ha preso e ha visto l'apertura del PD, l'apertura a Renzi come PD, come per, ci sono stati un po', diciamo, alcuni delle persone che sono fuoriuscite dal Movimento 5 Stelle, immagino catalano, immagino persone un po' di questo tipo. Ecco, avevamo ragione noi, ve l'avevamo detto. Possiamo provare a spiegare quello che è secondo te il discorso per cui Beppe ha fatto questa, cioè Beppe con voi ha fatto questa mossa? Sì, allora, innanzitutto, questa è un'apertura sul merito di un provvedimento, non è assolutamente un'apertura al governo, una fiducia, un inciucio, non è assolutamente nulla di questo genere, cioè noi non daremo assolutamente la fiducia a questo governo. Stiamo semplicemente proponendo a Renzi di aprirsi, di scongelarsi, rispetto a quello che lui aveva detto a noi, su un provvedimento che è fatto e discusso con i cittadini, soprattutto quello di una portata grossa come la legge elettorale, che è veramente una struttura cardine per la democrazia del Paese. Visto che lui sostiene di non essere riuscito a trovare accordi con nessuno se non con Berlusconi, noi gliene abbiamo proposta una che sarebbe rispettosa soprattutto di quello che ha detto la Corte Costituzionale, oltre ad essere una legge fatta dai cittadini, per cui ci sembra un'apertura su un merito ideale. Per quello che dicono poi i fuoriusciti, secondo me sono completamente, i rilievi che fanno sono fuori di senso perché loro proponevano di fare un accordo col PD, qua non si sta discutendo assolutamente di fare un accordo, ma di avere una sorta di apertura su un provvedimento tipo questo, non è assolutamente un accordo, né una fiducia in bianco, né nulla di questo genere. Quindi è un'apertura su un provvedimento determinato. Quindi diciamo che fin quando lo dicono i fuoriusciti siamo ben tranquilli, l'importante è che all'interno siamo tutti compatti e hanno tutti ben chiaro che cos'è questa mossa. Eh ma sì, certo, anche perché tutti la legge l'abbiamo votata, anche noi che eravamo seduti tra gli scranni l'abbiamo votata in rete, quindi è condivisa da tutti, chi ha voluto far parte del gruppo di lavoro con il dell'affari costituzionale ha potuto farne parte, quindi ce la sentiamo tutti come legge nostre su una cosa del genere, tentare di avere un dialogo col PD come facciamo sempre nelle sedi istituzionali. Ecco infatti Fabiana, ti volevo fare questo ragionamento con te e condividerlo con chi ci ascolta. Adesso più o meno, non c'è bisogno di essere precisi, quanti disegni di legge abbiamo presentato più o meno fino ad oggi? 200. Perfetto. Noi fino ad oggi abbiamo presentato 200 disegni di legge. L'informazione non ha fatto passare questo e siamo tutti concordi che fino ad oggi l'informazione ha fatto passare il fatto che il Movimento 5 Stelle non fa proposte. Esatto. Avevamo questo problema, ok? Avevamo questo problema, continuiamo a dirlo, con Cristina abbiamo iniziato la puntata che non dobbiamo dire più parolacce, le abbiamo dette in piazza, abbiamo gridato, abbiamo detto sono degli stronzi, non è vero che non abbiamo presentato disegni di legge, l'abbiamo fatto così, però non siamo passati. C'era questa cappa dell'informazione. Avete trovato l'idea giusta su un provvedimento in cui potevi fare un'idea giusta di questo tipo perché era passato dalla rete, ok? E l'idea giusta è, staniamoli, facciamo vedere che anche, che quello che noi facciamo di solito, che è presentare la legge in commissione, ok? Glielo facciamo mostrare agli italiani, perché evidentemente gli italiani hanno la percezione che le leggi le devi presentare a Renzi o a Berlusconi e non in commissione. Esatto. Fermami quando mi... Purtroppo sì. Fermami quando sto... Ok. No, 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 vai, vai. E questo punto è il discorso dell'apertura. Chi prende come i fuoriusciti, sicuramente non quelli che sono dentro, e dice, ah, lo possiamo fare sempre, ah, possiamo fare le alleanze, non ha capito questo passaggio. È semplicemente quello che fate da un anno e mezzo a questa parte, lì dentro, presentando le cose in commissione e mostrando, è un tentativo per mostrare all'opinione pubblica quello che succede ogni volta che presentiamo un qualcosa in commissione, con la differenza che stavolta quantomeno devono giustificarsi del perché non ci cagheranno, giusto? È esatto, è esattamente questo il ragionamento. Noi in commissione di discussioni proposte ne facciamo infinite, anche chi ci dice non dialogate col PD, ma figuriamoci, noi siamo in una commissione in cui parliamo dal mattino alla sera con quelli del PD e a volte su certi provvedimenti che chiaramente non sono quelli nodali ci sono delle convergenze e che su queste cose qua loro tirano su un muro e ti dicono assolutamente, tassativamente no. Chiaro che fuori dai palazzi passa soltanto la notizia di Renzi e Berlusconi, per cui per riuscire a uscire da questo impasse mediatico perché di fatto siamo arrivati a un punto di stallo in cui noi di lavoro ne facciamo moltissimo, ma non riusciamo a farlo uscire al di fuori del palazzo, con questo escamotage diciamo così siamo riusciti a passare diciamo così la palla al centro rispetto a quella che era la situazione di prima. Perfetto, meno male aggiungerei io, no? Eh, direi sì, meno male. Ora vediamo cosa ci rispondono anche se pare che che siano inamovibili sul ballottaggio e il maggioritario. Sembrerebbe che sembrerebbe che Napolitano abbia già preso e fatto le prime mosse come ha visto un po' di odore di democrazia partecipata, partecipata, che bello, quando prendi aggiungi una parola e non ti possono dire più niente. Vero. Quando ha visto odore di democrazia partecipata si è spaventata e ha detto no, a me piace soltanto la democrazia delegata. Eh, non avevo dubbi che a lui piacesse la democrazia delegata. Poi vabbè, il concetto di delegato del Presidente della Repubblica è un pochino più ristretto di quello che ho io o che posso aver capito io leggendo la Costituzione, ma io non sono un costituzionalista quindi l'ho capita male. Anch'io probabilmente l'ho capita male perché anch'io non sono una costituzionalista probabilmente. Deve essere così. Quindi lui ha già fatto dei blocchi, dei moniti. Allora, io tutto quello che ho preso l'ho preso paradossalmente dai giornali. Questa è un'altra delle cose che mi stupisce da quando sono qua dentro. Anche sull'Italicum e le notizie non la prendevamo in commissione ma leggendo le ANSA o i titoli dei giornali. Cioè, apprendevo pur essendo all'epoca ancora capogruppo dell'affari costituzionali quindi dentro l'ufficio di presidenza consisto davanti fiano davanti la Boschi io apprendevo le cose dai giornali. Cioè, Renzi si è incontrato con Berlusconi Napolitano ha detto questo si è fatto quello è arrivato il testo ma le apprendevo dai giornali quindi anche queste notizie di Napolitano le apprendo dai giornali e di per sé non mi stupiscono tanto anche perché lui era stato votato all'epoca come presidente della Repubblica è garante di fatto di questo governo delle larghe intese per cui non mi stupisce che anche lui tenti di contenere la situazione quindi di mantenere lo status quo è perfettamente in linea con quello che ha fatto Napolitano fino ad adesso. Senti, oggi è la tredicesima fiducia? Eh sì, una fiducia a provvedimento da quando sono qua. Perfetto, ma gliel'avete chiesto a Renzi dici, senti, adesso che hai finita la schedina la smettete oppure andiate oltre a oltranza? In effetti sarebbe buono riuscire a discutere almeno un emendamento su qualche decreto fino adesso non c'è stata la possibilità di farne neanche uno infatti è una situazione imbarazzante siamo in una dittatura del governo che è peggiore e di quella di Letta cioè qua arrivano direttamente provvedimenti c'è Laboschi che a differenza del ministro precedente che era Franceschini che almeno ti faceva il discorso prima di introdurre la questione di fiducia lei arriva legge il foglio una riga quindi pongo la questione di fiducia almeno Franceschini ci metteva un po' un po' di pepe sopra siamo arrivati proprio io lo dico cioè rido per non piangere però siamo arrivati a una situazione drammatica cioè arrivano i decreti blindati escono come sono arrivati fiducia immediata e di fatto il Parlamento è completamente svuotato delle proprie funzioni senti ma almeno in questo caso hanno messo più scusatemi non mi viene il termine quello che fanno sempre che in un decreto ci mettono dentro due tre cose la non un decreto omnibus perfetto questa volta quindi omogeneità zero come sempre anche questa volta quindi questa ormai è una peculiarità imprescindibile dei provvedimenti devono contenere ogni cosa altrimenti non sono decreti degni di nota sia anche loro fanno i decreti omnibus questa volta qui avete già notato qualche cosa che puzza tanto come quando era stato per il femminicidio oppure oppure no questi ultimi decreti io non li ho seguiti proprio come prima commissione perché noi siamo rimasti bloccati alla legge elettorale alle riforme costituzionali per cui certo certo non ti saprei dire quindi sarei imprecisa i miei colleghi potrebbero criticarmi quindi bravissima bravissima vedete l'umiltà di un portavoce che dice ho lavorato su altro siamo un gruppo siamo una squadra e questa è la bellezza del Movimento 5 Stelle giusto che poi avete anche il problema che stanno cercando di cambiare anche il regolamento interno e quel cambio lì lo stanno facendo proprio lì nella tua commissione giusto? no c'è una giunta apposita la giunta per il regolamento di cui fanno parte Danilo Toninelli e Federica Dieni avevo preinteso io pensando a Danilo Toninelli pensavo che lo stavate facendo voi lì scusate no perché sono in effetti due membri dell'affari costituzionali che sono nella giunta ma hanno una giunta separata che si occupa proprio della riforma del regolamento e anche lì ci sarà da fare già l'abbiamo fatta l'U una battaglia spaventosa perché si sta tentando di portare il regolamento ad essere molto meno garantista verso le opposizioni e garantire invece molta più possibilità al governo alla maggioranza di fare ciò che vogliono e già così si fa di tutto l'unico strumento che ha in mano l'opposizione è l'ostruzionismo se si vuole togliere anche quello allora l'opposizione non avrà più diritti e tutti gli elettori che hanno votato un partito di minoranza di fatto non saranno minimamente più rappresentati non ha non ha senso si arriverà ancora di più a una dittatura della maggioranza già così è esagerato figuriamoci se modificheranno il regolamento sarà impossibile bloccare ogni cosa certo hai ragione Fabiana io se non hai altre cose che ti vengono in mente che vuoi dire la chiuderei qui io sono ben lieta così ricorro in aula a recuperare a recuperare le votazioni e io direi di lasciarci così il movimento legge elettorale Movimento 5 Stelle apre a Renzi prossimamente vi diremo che cosa esatto vedremo lo scopriremo solo vivendo ciao Fabiana ti saluto anch'io ti ringrazio e ovviamente quando vuoi venirci a trovare molto molto volentieri ti porto anche i saluti di tutti gli interattori in chat che ti ringraziano per la spiegazione proprio precisa e capillare di tante cose che effettivamente magari non tutti sono sempre preparati grazie a voi grazie a tutti ciao 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 a tutti grazie a tutti